Texas, Shamrock Raggiungiamo il solitario U-Drop Café Fu per anni l'unico punto di ristoro e di rifornimento lungo le 100 miglia di strada delle prime sconfinate braterie del Texas un vero gioiello in stile art deco, perfettamente restaurato che oggi ospita l'ufficio turistico della città Le 178 miglia della 66 in Texas sono uno dei tratti meglio conservati dell'antica strada che attraversa braterie sconfinate ed estesi ranch di allevamento La nostra prossima tappa è la città di Amarillo Un tempo, cuore della Route 66 Oh, 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 get back my book because redneck woman take the books and walk out of my line And I say Oh, 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 get back my book because redneck woman I can't be no cowgirl over the days Giunti nella terra dei Cowboy non poteva mancare una visita al locale più famoso di Amarillo Saliamo a bordo di un curioso e singolare taxi per raggiungere il Day Texan Il ristorante texano è famoso per la sfida che lancia ogni sera ai suoi clienti Mangiare una bistecca di due chili e mezzo in meno di un'ora Giovani e non più giovani si sfidano sotto gli occhi di un caloroso e festante pubblico con cappelli e stivaloni che attende con impazienza il vincitore